Si avvicinano le tradizionali feste di Natale, si avvicina il tradizionale tormentone per ciascuno, sia una persona privata ma sia anche una piccola e media azienda, di dover fare un pensierino, un regalino o ai propri amici, parenti oppure anche ai propri clienti. E allora in una situazione di crisi in cui tutti cerchiamo di risparmiare e spendere il meno possibile e cercando di mantenere però sempre vive le belle tradizioni degli auguri di Natale, perché non pensare a regalare un ebook? Gli ebook su ebooks Italia possono essere facilmente regalati, basta leggere le istruzioni e poi se qualche azienda decide di fare quest'anno i propri regali azientali con gli ebook mi contatti che troveremo delle soluzioni davvero interessanti.